Il Parlamento europeo è sotto attacco da parte di alcuni paesi nemici della democrazia. Così la presidente dell'Eurocamera Roberta Mezzola ha aperto la sessione plenaria di Strasburgo. Toni Forti per le prime parole pubbliche dopo l'arresto della vicepresidente Eva Caili e lo scandalo di corruzione che ha colpito l'assemblea comunitaria. Degli attori malintenzionati, legati a paesi terzi autocratici, hanno presumibilmente utilizzato ONG, sindacati, individui, assistenti e deputati del Parlamento europeo nel tentativo di influire sui nostri processi. I loro piani malvagi sono falliti. Una procedura è stata avviata per revocare titolo e funzioni di Eva Caili, attualmente sospesa. Ai sensi del regolamento dell'Eurocamera è necessario che la maggioranza dei due terzi dell'Aula approvi la proposta per rendere questa misura effettiva. Il gruppo dei socialisti democratici a cui appartiene Caili ha tenuto una riunione d'emergenza e, secondo la sua Presidente, dovrebbero dimettersi anche gli eurodeputati, cui assistenti sono coinvolti nello scandalo. Oggi è un giorno buio per le istituzioni europee e naturalmente per il Parlamento e per la nostra famiglia politica. Ma potete star certi che manterremo il nostro chiaro impegno a combattere la corruzione, ad essere trasparenti e ad assumere una posizione ferma e decisa. I parlamentari degli altri gruppi sono costernati e chiedono di non generalizzare. Non siamo tutti uguali. Penso che sia importante dire che sì, ci sono alcuni individui pronti a ricevere denaro e ad essere corrotti. Ma in generale la maggior parte di questo Parlamento è composta di persone che lavorano duro, membri guidati dalla propria causa politica e non dal denaro. Il Parlamento europeo è consapevole della minaccia che questo scandalo di corruzione rappresenta per la sua reputazione e la Presidente Mezzo l'assicura, nessuna impunità per i responsabili.